Un pack che racconta le peculiarità di una mela coltivata senza diserbanti è la risposta di QI per VIP Valvenosta, che gioca con l'alta personalizzazione della stampa digitale per rendere unico ogni pack di mele e che ha voluto raccontarne la sostenibilità. Il termine senza diventa il fulcro attorno cui ruota un copy multisoggetto che rappresenta le peculiarità del mondo delle mele coltivate rispettando l'ambiente. Senza sprechi è anche il cuore pulsante del progetto perché stampato su un imballaggio termosaldato compostabile al 100% e sviluppato da Goglio Packaging System. Il progetto Mele Valvenosta è stato per Goglio un'ulteriore occasione per poter dimostrare quanto la stampa digitale possa essere un valore aggiunto per la personalizzazione del packaging. Per il progetto creativo abbiamo utilizzato un supporto compostabile rispettando le vigenti norme in materia. La tecnologia digitale priva di impianti per la stampa ci ha permesso di realizzare due varianti, a loro volta declinate in sei grafiche diverse, fra loro per testi, colori e immagini. A dimostrazione del fatto che la stampa digitale può rispondere a tutte quelle esigenze legate all'estrema personalizzazione del prodotto, risultato non raggiungibile altrimenti dalla stampa tradizionale sull'imballaggio flessibile. Lo stimolo che ha dato vita al concept creativo sta nelle possibilità date dalla stampa digitale che permette a ogni packaging Valvenosta senza di essere unico nella sua veste grafica, con un copy che potenzialmente può distinguersi in ogni singolo pack. Il progetto Valvenosta è un progetto molto interessante per due temi principali, l'idea del versioning, quindi la realizzazione di packaging, in questo caso completamente stampati oltretutto, che rappresentano versioni diverse di uno stesso prodotto e creano un rapporto col consumatore. E dall'altro punto di vista per il tema della sostenibilità, infatti i packaging sono stati realizzati completamente da Golvio, un cliente di HP Indigo che utilizza tecnologia Indigo 20.000 e che tramite la sua versatilità nell'imballaggio flessibile ha permesso sia la realizzazione di packaging strutturati e completamente decorati, che vogliono creare una sorta di rapporto col consumatore e una sorta di fiducia, appunto perché non ti permettono di vedere l'elemento interno ai packaging, sia per quanto riguarda la sostenibilità, il tema della sostenibilità perché sono stati stampati con materiali 100% compostabili su stampa digitale Indigo, il che dimostra, a nostro avviso appunto, la possibilità della versatilità nell'utilizzo dei materiali con tecnologia di HP Indigo e il fatto che i colori utilizzati sono completamente sostenibili. Particolare attenzione viene prestata all'utilizzo degli inchiostri e della superficie coprente per non compromettere la compostabilità dell'involcro, così da rendere il packaging come la mela valvenosta coltivata senza disarbanti, un prodotto a impatto zero sull'ambiente, una delle tante azioni che ogni giorno VIP Valvenosta costruisce per restituire la natura a dolcezza e gratitudine.